Roberto Barbera, ben arrivato a Lido da poche ore, ormai è una bella consuetudine questa intervista al suo Lido con Media Nord-Est Antenna 3. I lavori sono cominciati molti mesi fa, è da gennaio che non faccio altro che vedere film e gestire contatti con registi, produttori, sales agent eccetera. Ho già visto moltissimi film, ho fatto qualche invito, a Cannes per me è stata l'occasione per incontrare tantissime persone e raccogliere informazioni sui film. Dal suo ufficio al primo piano del Palazzo del Cinema Lido di Venezia, in esclusiva per le nostre reti, il direttore della mostra internazionale d'arte e cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, racconta le sue prime sensazioni per la mostra 2024. Entro domenica tutto il comitato di selezione sarà Lido al completo per visionare i film. Cannes è stata come sempre un grande festival naturalmente, grande partecipazione, alcuni grandi film, alcuni film che forse sono risultati non all'altezza delle aspettative e quindi complessivamente il bilancio finale non è tra i più esaltanti, sicuramente non all'altezza della precedente edizione. Io spero di riuscire a fare meglio a Venezia quest'anno. Il 23 luglio ci sarà la presentazione del programma del festival che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre prossimi a Lido. Anche quest'anno ci saranno numerosi film americani e credo di grande interesse, di grande qualità.